Musica Allora parto dalla seduta al palo, io solitamente incrocio la gamba destra sopra la sinistra dopodiché vado a spostare tutto il corpo al lato sinistro levo l'incrocio dalle gambe, afferro il palo con la mano sinistra e porto avanti la spalla destra in modo che si agganci con il palo da qui porto la testa sopra le ginocchia quindi vado ad abbracciare il palo con tutto il fianco destro chiudo, chiudo, mi piego, mi piego fino ad arrivare le ginocchia dopodiché stringo forte con le mani e mi avvicino ancora di più le gambe al petto per uscire dalla figura mi tiro su, riafferro il palo con la mano sinistra con la mano destra, spingo e scendo ve lo mostro anche da questo lato così vedete esattamente il punto di contatto del mio corpo sul palo che è sotto la costola e qui sopra del bacino dove avete la parte morbida diciamo quindi rimando a fare la seduta al palo sposto tutto il corpo a sinistra e qui si va ad incastrare il palo scrocio le gambe e vado giù